Direi che è andato tutto come avevamo immaginato. Abbiamo fatto entrare i ragazzini e i bambini di prima media, di prima elementare, alla seconda ora. Per cui all'inizio dell'orario scolastico, con il distanziamento temporale e fisico che avevamo previsto, sono entrati la seconda e la terza della secondaria e la seconda, terza, quarta e quinta della primaria. Alla seconda ora sono entrati nuovi ingressi, nelle prime, sia la primaria che la secondaria. Direi che erano tutti molto emozionati e avevano voglia di ricominciare in condizioni di didattica tradizionale. Noi siamo ancora in attesa dei banchi, quelli della protezione civile, le mascherine, la prima fornitura è arrivata da noi il 12, sabato. Stamattina abbiamo distribuito le mascherine ai docenti e anche ai ragazzi, le mascherine chirurgiche che ci hanno fornito. Con i banchi invece siamo ancora in attesa, speriamo che i tempi non siano tanto lunghi. Abbiamo usato dei tavoloni che avevamo già in uso l'anno scorso, riducendo al minimo il numero di alunni per ogni tavolo, calcolando la distanza corretta di un metro da rima buccale a rima buccale e per adesso ci arrangiamo così in attesa dei banchi monoposto.